Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi ripresento, perché l'avevo già portato precedentemente sul canale, il rework, ovvero la nuova edizione di Hotel a cura di Asmoda Italia, che io ringrazio di cuore immensamente, come sempre per il prodotto fornito, ed è un prodotto che quando ho visto in lista ho richiesto immediatamente, perché chi mi conosce lo sa, e se andate a vedere l'ho già trattato sul canale, almeno 3-4 anni fa, io e mia moglie siamo grandissimi amanti, non tanto di Hotel, quanto dei giochi dell'AMB, dell'Amilton Bradley. Per fare un po' di storia, l'AMB sono quelli che al tempo tirarono fuori la primissima edizione di, per fare un gioco spettacolare, per citarne uno, HeroQuest, con tutte le espansioni, ma anche di altri titoli, come ad esempio Brivido, un altro capolavoro, il tempio, non mi ricordo come si chiamava, quello dove c'era tutto il tempio in 3D, che dovevi scappare, insomma, che quello era veramente una figata, e poi Hotel. Erano giochi belli, quelli della Amilton Bradley, perché attiravano così tanto? Perché al loro interno, già negli anni 70-80, avevano una grandissima componentistica 3D. Hotel aveva veramente gli hotel fatti in 3D, belle da vedere sul tavolo, ed HeroQuest era il primo dungeon crawler, pensate in quegli anni lì, dove praticamente c'era poco o niente di concorrenza, dove non solo mettevi delle penine di plastica sul campo, ma anche tutti quanti, la mobilia, le rastrellere delle armi, i tavoli, le sedie di scrigni e quant'altro. Questa è un'edizione celebrativa per i 50 anni di Hotel, che ricordo nella sua prima edizione fu pubblicato da Milton Bradley e successivamente, mi pare, intorno al 99-2000, vabbè, primi del 2000, dalla Parker, che ne fece una nuova edizione. Infatti, quello che vi ho mostrato nel video precedente era l'edizione della Parker. E ora vi mostro questo a cura di Asmod Italia, dopo una sigla. Hotel, in questa edizione italiana, che vedete qui davanti, a cura di Asmod Italia, è uno dei giochi più semplici sulla faccia della terra, ma ovviamente perché era un gioco che era destinato proprio alle famiglie al tempo, ma non soltanto, proprio forse ancora più indirizzato verso i più giovani. Io mi ricordo una volta, se era piccolini, ci si fece giocare il fratello di una mia amica che ci aveva 8 anni e si fece una partita completa tranquillamente, perché è un gioco laddove il manuale, come potete vedere ora a video, il manuale sono tipo 3-4 pagine, ma ha tolto il tutorial su come montare le strutture che sono, sì, rifatte, ma comunque sempre come quelle vecchie, ovvero c'è la parte in alto del soffitto e la parte della base fatta in plastica e il resto in cartoncino, anche per risparmiare le spese, se no il gioco sarebbe costato 120 euro tutto in plastica, a stamparlo in 3D, e comunque la componentistica è bella, però è come quella di un tempo. Quindi il regolamento è stra-mega veloce e le regole del gioco sono veramente facilissime. Abbiamo il tabellone del gioco, che è praticamente la mappa di una città, dove su questo tabellone inizialmente verranno messe le strutture del municipio e della banca. Tanto comunque lo vedete nel frattempo anche al video. Le meccaniche sono semplici, si va a girare in turno, in turno orario intorno al tavolo, si tira un dado da 6 e quelle sono, il risultato, sono le caselle di cui dovete spostare la vostra macchina. Quando finite in una casella di un hotel in particolare, e qui hanno cambiato un po' i nomi, al tempo l'hotel, quello più maestoso, si chiamava il President, quando vi fermate su una casella del President e non è ancora stato comprato da nessuno, potete comprare il terreno del President e successivamente costruire l'edificio principale e tutte le dependons. Quindi l'edificio principale e tutto il resto per formare l'hotel, che se non erro nel President erano 4 o 5 pezzi, nel Waikiki erano 3, nel Taj Mahal 3, nel Boomerang uno soltanto. Quindi inizialmente noi si deve andare a comprare il terreno per dopo edificare. Si va a tirare il dado degli acquisti e questo dado potrà dare diversi risultati, ovvero luce verde comprate a gratis, luce rossa non potete acquistare o lo potete pagare il doppio. Quindi se vi va bene lo pagate normalmente. Prezzo del terreno 500 dollari, 500 dollari. Se invece vi viene il doppio lo pagate 1000 e in questo gioco quando si rimane senza soldi avete perso la partita, oppure proprio non lo potete costruire. Successivamente poi rifacendo il giro della mappa e rifinendo nel vostro territorio dove avete il terreno comprato, potete costruire il primo edificio, poi il secondo, poi il terzo e anche per questo si guarda il prezzo e si va a tirare il dado. Ogni edificio ha la sua struttura in 3D, col terreno, gli edifici in 3D e la sua cartellina. cartellina che una volta che sarà vostro ed avete comprato, avrete comprato le entrate da piazzarci davanti, quando un giocatore ci finirà sulla vostra entrata, dovrà tirare il dado da 6, vedere quante notti per notte ha detto il vostro albergo e a seconda degli edifici che avete costruito pagherà un tot. Quindi magari va, andate, lui tira, fa 5, 5 sul Presidente, magari andate a vedere, non lo so, spende 2500-3000 dollari. prendete soldi, vi dà i suoi soldi che vanno nel vostro mucchio e il giocatore quando rimane senza soldi ha perso la partita. Ovviamente, chi è che vince la partita? L'ultimo che rimane in campo e tutti gli altri sono stati eliminati. Quindi, a livello di regolamento è veramente facilissimo. In conclusione, questo hotel porta, riporta un gioco che è stato memorabile, che è stato iconico, un cult, no? Nel suo genere, chi magari ha dai 30-40 anni ha avuto il piacere come me di giocarlo nella prima edizione dell'MV che tra l'altro mi piacerebbe anche avere ed è un gioco infatti, come vedete anche sulla scatola dagli 8 anni in su che è veramente non per la famiglia, per tutti, famiglia, ma qui ci potete mettere chiunque lo portate e fate la partita e poi è bellino perché effettivamente all'inizio è una mappa brulla così, senza nulla, con i disegni, ma dopo che iniziate a montare tutti gli hotel e le entrate e tutto sembra veramente di vedere un piccolo plastico, una città in miniatura, quindi è veramente molto bello. Io ringrazio Asmo d'Italia per avermi fornito questa copia per la recensione ed è un titolo assolutamente consigliato a tutti. Se lo volete ordinare come sempre primo link in descrizione e in sovraimpressione dalla Giocolibreria Semola nostro negozio sponsor non soltanto al miglior prezzo nel mercato ma se lo cercate sito Giocolibreria Semola lo cercate hotel non è presente o bollino rosso proprio c'è ma le copie sono finite mandate una mail al supporto e fate presente che arrivate dal mio canale dal canale di Coridan. Giocolibreria Semola farei il possibile per trovarvelo ovvio se reperibile non se è un gioco di dieci anni fa impossibile da trovare e anche se un gioco è finito o non ce l'ha in catalogo ve lo ordine e ve lo manda a casa. Lo acquistate in 48 ore ce l'avete in tutta Europa e usate sempre il codice discount Coridan7 per avere uno sconto del 7% e per spese superiore ai 79 euro spese postali gratuite. quindi come sempre giocolibreria Semola si afferma come uno dei servizi top che potete trovare in rete. Ancora una volta io penso che sia un gioco che mi piace presentare perché è un gioco consigliato a tutti quindi qui veramente non c'è ma quello forse ma i giochi di guerra ma i giochi fantasy no no questo è un gioco veramente per tutti e farà divertire chiunque. Vi sentirete dei piccoli imprenditori Rockefeller non lo so sono lì che si devono comprare tutta questa città ed espropriare gli altri giocatori per farli perdere proprio un bel contenuto ciao alla prossima se questo video ti è piaciuto lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita primo link in descrizione primi link che trovate ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale facebook al canale mio di live twitch alla mia pagina instagram e alla mia pagina tiktok che sono sempre aggiornate e su twitch mano a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno quindi guardatela sempre perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata mi raccomando iscrivetevi soprattutto ai social perché sono sempre aggiornati e se devo comunicare qualcosa anche per il canale youtube lo troverete sempre lì ciao alla prossima